Ieri nella tranquilla frazione di Focà del comune di Caulonia un'esplosione ha scosso l'intera comunità causando almeno due feriti, si tratta di mamma e figlio entrambi ustionati gravemente. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 a causa probabilmente di un tubo difettoso collegato ad una bombola del gas e ad una stufa. Immediatamente sono intervenuti i vigi del fuoco del distaccamento di monasterace competenti per territorio insieme ai carabinieri della locale stazione e alla polizia di stato. Successivamente è atterrato anche l'elisoccorso che è stato chiamato in aiuto per il trasporto delle persone ferite. La madre, una signora anziana quasi ottantenne, ha avuto la peggio ustion in tutto il corpo e è stata trasportata all'ospedale di Catanzaro insieme al figlio sessantenne. Al momento si conoscono pochi dettagli sull'incidente che ancora non sono emersi ma sembra che il guasto al tubo abbia innescato dall'esplosione. Le autorità sono comunque al lavoro per raccogliere informazioni e stabilire le esatte cause. Gli abitanti e le case vicine a quella colpita dall'incendio sono stati ieri momentaneamente evacuati per garantire la sicurezza mentre le squadre di emergenza hanno continuato a gestire la situazione.